Continuano gli screening in area vestina alla ricerca di eventuali nuovi positivi soprattutto tra i cosiddetti asintomatici. Oggi primo giorno di campagna screening a pianella riservate al personale scolastico e comunale, ad operatori sanitari, forze armate e associazioni di volontariato. Mentre nelle giornate del 9 e 10 gennaio a sottoporsi al test saranno gli alunni delle scuole e i genitori che dovranno accompagnare il minorenne. Mentre la prossima settimana via al test per il resto della popolazione. Fortunatamente siamo in una fase nella quale la curva dei contagi sul nostro territorio tende a scendere moltissimo. Abbiamo non più di cinque positivi attualmente nel territorio pianellese. Con questa operazione cerchiamo di contenere ulteriormente il dato che è già positivo attualmente e guardare con fiducia alla prossima campagna di vaccinazione. 1135 tamponi e nessun positivo sono i dati dello screening che arrivano da Penne. Il comune principale dell'area Vestina al quarto giorno di test ha fatto registrare dati incoraggianti anche alla luce dei numeri impietosi fatti registrare durante la prima fase dell'emergenza. C'è da precisare che noi stiamo processando tamponi di persone, di cittadini che sono asintomatici. Questo quindi è un fattore importante. Penso che noi con i tempi ci siamo e la popolazione è stata brava, perlomeno quelli che sono venuti poi a farsi il tampone. Apporto fondamentale è arrivato dai medici del presidio ospedaliero del San Massimo che hanno accolto la proposta dell'amministrazione e su base volontaria hanno risposto presente all'appello. Io devo ringraziare il personale infermieristico del San Massimo che ha dato la massima disponibilità. Ci sono i medici di famiglia, c'è il personale volontario che voglio precisare. Questi che vedete qui sono tutti volontari, quindi non percepiscono niente e mettono a disposizione il loro tempo. Il sindaco Semproni, già colpito dal covid e oggi in prima linea in questa campagna di test, ci aggiorna che nei prossimi giorni farà richiesta al comitato ristretto dei sindaci di individuare il nostro comio San Massimo come punto per la campagna vaccinale aperta alla popolazione. Intanto altri comuni dell'area si stanno organizzando in questi giorni. I cittadini di Loreto a Prutino che in queste giornate si sono recati a penne per il test potranno effettuarlo nel proprio comune nei giorni 16 e 17 gennaio così come a Farindola che ha comunicato l'avvio dello screening per il 14 di questo mese.